Benvenuti allo Stoicon 2021. È veramente un piacere per noi avervi qui. Come forse saprete, lo Stoicon, questo importante evento, va avanti da moltissimi anni ormai. Siamo quasi all'ottavo, nonno anno. Abbiamo visitato quasi tutte le parti dell'Occidente, in Inghilterra, negli Stati Uniti, e sono particolarmente felice di sapere che molte persone anche dall'Italia ci seguono e seguono questo movimento. Si tratta di un evento importante per provare tutti insieme a riflettere sullo stoicismo e sul contributo che questa importante scuola di filosofia antica può dare alla nostra vita, farci riflettere sulle cose che ci circondano, su come dobbiamo affrontare i temi importanti per noi, il nostro benessere, la nostra felicità, la nostra vita. Verranno offerti tanti stimoli, tante possibilità di riflessione, tanti contributi e soprattutto impareremo insieme a conoscere questa scuola meglio e impareremo a conoscere meglio anche il modo in cui lo stoicismo può aiutare ciascuno di noi.